Appartamento in vendita, siamo in via San Donato, quindi nelle immediate vicinanze di Piazza Mateotti e dei Ferrari. Appartamento completamente ristrutturato qualche anno fa, ma tenuto veramente in modo impeccabile. Riscaldamento autonomo, qui abbiamo subito l'ingressino con il living a vista che si vede, ingresso sfruttato con armadiature e poi un sacco di ripostigli molto utili, qui per esempio questo, molto capiente, anche in altezza, qui è stata creata questa velletta di cartongesso con i faretti, poi qui un altro ripostiglio, quindi veramente gli spazi utilizzati al meglio, porta blindata, quindi l'ingresso, optional abbiamo allarme e aria condizionata, quindi vediamo un attimino bene com'è suddivisa la casa. Questa casa è molto luminosa, qui abbiamo il soggiorno con porte e finestre, caloriferi di design, poi tutti i cassetto nerifatti, quindi seramenti di ottima qualità, zanzariere, qui una bella cucina, quindi veramente una casa curata, qui praticamente la finestra funge quasi da balconcino, perché due piante si possono mettere, quindi qui il rumore, anche se siamo in zona movida, è veramente limitato in quanto con questi seramenti di veramente fonossorbenti si annulla praticamente il rumore. Quindi soggiorno con angolo cottura, poi andiamo alla zona notte, quindi questo corridoietto, un bellissimo bagno, attrezzato anche come box doccia, qui angolo lavatrice, bagno dotato di finestra, un pleso di tutto, e poi qui abbiamo le due camere, quindi una matrimoniale, capiente dove c'è un bel armadio, split dell'aria condizionata, quindi anche con le finestre chiuse si sta divinamente, qui classico angolo comò, oppure uno può creare un'altra armadiatura, quindi la matrimoniale, e qui loro la utilizzano come studio, ma sicuramente è un'altra camera, un po' più grande della classica singola, anche qui split dell'aria condizionata, e un altro ripostiglio, quindi casa veramente sfruttata al meglio in ogni dettaglio. Qui siamo su un cortile interno, palazzo in ordine, ripeto, palazzo dotato di ascensore, quindi appartamento in vendita, in più come ulteriore possibilità abbiamo un posto auto di proprietà al marina, quindi se uno desidera la casa con posto auto, questa è anche dotata di posto auto, se no tranquillamente lo possiamo vendere separatamente, poi nel sito troverete tutti i dettagli, la planimetria, e tutto ciò che vi occorre, sul sito troverete tutto. Direi che l'immobile è terminato, e a presto! Grazie!